Ehi ragazzi! Ho sentito qualcosa! Venite a vedere! C'è qualcuno là sotto! Ma chi diavolo è? Non lo sappiamo. Ci stai ancora? Farò tutto ciò che serve. Siamo a tre chilometri da Devil's Drop. La parete del diavolo. Va tutto bene. Oh no! È l'Only Place to Die. Giovedì alle 21.15. Rai 4. Grazie!